Ed eccoci di nuovo assieme in diretta ad ore 7, ospite di questa mattina il sindaco di Tricesimo Giorgio Baiuti, buongiorno. Buongiorno. E grazie per essere qui, per essere stato subito disponibile perché è da sabato sera che si lavora a Tricesimo, perché è stata individuata una struttura da utilizzare in caso di isolamento. Le parleremo tra poco e faremo vedere anche le immagini, ma intanto sindaco le chiedo subito il suo parere sull'ordinanza firmata ieri sera dal presidente Federica. Ma credo che sia un'ordinanza opportuna e ovviamente ha un carattere precauzionale preventivo, ma consente appunto di mettere in atto tutta una serie di misure che credo vengano incontro alle preoccupazioni che ci sono nella popolazione, ma anche la necessità di monitorare la situazione da qui fino al primo marzo per capire come si evolve. Quindi credo che sia stata accolta positivamente dai sindaci, dai colleghi e anche dalle comunità delle realtà locali. Quindi chiuse le scuole, diverse strutture, sospese bloccate, tutte le iniziative, c'era il carnevale in corso, quindi sospeso davvero il Friuli è bloccato. Prima di parlare della struttura che vedremo anche nelle immagini, prima abbiamo anche sentito il presidente Fedriga che ha detto che può esserci anche una proroga all'ordinanza emanata e firmata ieri dal ministro Speranza, dipenderà anche dalle verifiche in atto volte a capire l'origine del ceppo del coronavirus ed individuare il paziente zero. Tra l'altro tutti i sindaci oggi sono stati convocati. Convocati alle due in regione dal presidente Fedriga e dall'assessore Riccardi per approfondire tutte le questioni che attengono all'ordinanza da un lato e capire un po' anche qual è l'intendimento della regione, soprattutto da parte della direzione della protezione civile, oltre che dell'autorità sanitaria, sui passi successivi. Quindi una valutazione sullo stato dell'essere. Lei come vive al momento questa situazione? Ma no, è una situazione tutto sommato tranquilla. C'è stato un po' di disorientamento nella comunità, diciamo così, quando sono apparsa ieri mattina le prime notizie sull'individuazione di tricesimo, ma più che altro perché i cittadini non sapevano, non conoscevano il luogo esatto dove si sarebbe dovuta individuare questa struttura. Poi pian piano si è capito che era la struttura del castello, che è una realtà protetta, isolata, che ben si presta a questo tipo di emergenza. Quindi mi par di capire, anche ieri sera, parlando con diverse persone di tricesimo, di aver percepito, ecco, la comprensione della difficoltà, della criticità, rispetto alla quale né la Curia Arcivescovile, che ha dato la possibilità di utilizzare questa struttura, né il comune, la comunità locale, possono, diciamo così, tirarsi indietro. Diciamo che ti è stata più sorpresa da parte dei suoi cittadini. Presa, senz'altro, sì sì, perché insomma sono due strutture a livello regionale, una nella zona Giuliana, Muggia e l'altra, ecco, tra Pordenone e Udine e tricesimo, uno si chiede ma perché proprio qui. E quindi, però, c'è stata anche una comprensione poi sostanziale rispetto a questa scelta. Il nostro regista Ediziano Campigotto ha già proposto le immagini della forestiera, del santuario di Madonna missionaria a tricesimo, le rivediamo, quindi erano già a lavoro da sabato sera. Lei come ha colto questa notizia? Ma sabato sera ho avuto la chiamata appunto verso le 17 dall'assessore Riccardi, mi sono recato sul posto e abbiamo chiamato la squadra della protezione civile di tricesimo, assieme al vice sindaco di tricesimo e, diciamo così, hanno approntato le prime misure di verifica sopra il luogo della struttura stessa, dopodiché il giorno dopo, che era ieri domenica, un 5-6 squadre di volontari della protezione civile della zona del Tarcentino si sono recate sul posto e hanno fatto, diciamo così, le primi interventi di ripulitura della struttura, pulizia, sistemazione, diciamo, rimozione anche di superlettili non necessarie, perché la struttura era sostanzialmente chiusa da almeno 12 anni, quindi aveva la necessità e ha la necessità di interventi anche abbastanza significativi, credo che oggi ci sarà anche l'intervento di salificazione di una ditta da parte incaricata dall'azienda sanitaria, dopodiché i lavori di ritinteggiatura, risistemazione e collocazione anche dei letti, diciamo così, dedicati per questo tipo di emergenza, che peraltro ecco, confidiamo anche di poter non utilizzare o utilizzare in modo molto limitato, perché come dicevo, anche l'intervento previsto lì nella foresteria del castello è un intervento di carattere preventivo, precauzionale, quindi non è detto appunto che ci sia poi un'utilizzazione pratica della struttura. Sono 40 i posti? No, i posti sono tanti, sì, 48, insomma una cinquantina, tant'è che in passato si era pensato anche di utilizzare quello spazio come ostello, ecco negli anni 60-70 poi ha avuto una ristrutturazione molto importante dopo il terremoto radicale, la struttura veniva utilizzata per ospitare le persone che partecipavano ai corsi, diciamo così, promossi dalla diocesi di Udine nella casa degli esercizi spirituali che era il santuario della Madonna Missionaria che è a pochissima distanza appunto dal castello stesso, quindi una struttura che è stata costruita intorno agli anni 60, ma radicalmente ristrutturata negli anni 80 dopo il terremoto, ha poi avuto ulteriori risistemazioni ed è, diciamo così, idonea a un'emergenza anche di questo tipo, con piccoli lavori manutentivi. So che una parte degli arredi verranno sostituiti in queste 28 camerette che sono state individuate come prima disponibilità e quindi la struttura per chi la conosce insomma è isolata, è protetta ambientalmente, pasagisticamente molto bella, una corte interna che la corte del castello diciamo così consente anche diciamo così alla persona di poter fruire anche di spazi esterni molto significativi. Lei ha detto che i suoi cittadini hanno reagito con sorpresa, ci auguriamo che non venga utilizzata, ma nell'eventualità lei avrà un compito importante anche per assicurare la sua comunità. Sì, beh questo sì, l'abbiamo detto ieri, lo diremo stasera, abbiamo un incontro con i rappresentanti delle associazioni locali alle quali chiediamo anche di collaborare in questo periodo insomma per questa criticità, sostanzialmente otterremo informati quotidianamente i cittadini, la comunità rispetto alla gestione della struttura in quanto tale, anche se come dicevo la collocazione della stessa, il tipo di struttura che è stato individuato e scelto sostanzialmente non crea nessun tipo di problema, preoccupazione, allarme diciamo così alla cittadinanza anche se capisco che poi magari ci siano degli aspetti che possono in qualche modo anche creare qualche allarme nei confronti di alcuni settori della popolazione, insomma ecco, ieri ho parlato anche con la dirigente scolastica che appunto si è anche lei subito messa a disposizione per fare poi all'interno della scuola sia con i genitori che con i ragazzi di tutti gli istituti che abbiamo a Tricesimo scolastici diciamo così un'informativa ecco nei termini dovuti, stasera ci sarà a Tricesimo anche il professor Colle che ci diciamo così intratterrà appunto con i rappresentanti della situazione ecco su quelle che sono le problematiche correlate all'insorgere ecco di questo virus. Un altro tema affrontato ieri sera da Massimiano Fedriga, la richiesta avanzata al Premier Giuseppe Conte di sospendere il trattato di Schengen il Presidente ha detto sono convinto che dobbiamo andare a limitare qualsiasi ingresso incontrollato quindi anche chiudere i confini, lei che cosa ne pensa? Ma sì, sono cose che, sono provvedimenti diciamo così che hanno un impatto notevolissimo ecco io credo che si possa in qualche modo cercare di ridurre o fare ulteriori controlli ai confini tenendo conto però che diciamo così noi abbiamo diciamo così a est il confine con la Slovenia a nord con la Carinzia dove credo che abbiano messo in campo misure diciamo così altrettanto impattanti come quelle di altri paesi europei il problema vero io ritengo sia quello appunto della migrazione da sud che andrebbe in qualche modo controllata per ciò che riguarda la regione è vero c'è anche un fenomeno immigratorio che deriva appunto dalla cosiddetta rotta balcanica però bisogna capire in che termini io credo che il governo mi pare che adesso il dialogo con tutte le forze politiche presenti in Parlamento sia come deve essere diciamo così aperto e che quindi si individuano quelle che sono le strategie i provvedimenti più idonei a far sì che questi provvedimenti siano il più possibile condivisi da tutti Sindaco io la ringrazio, le auguro buon lavoro perché adesso ci sarà ancora più lavoro soprattutto in questa settimana, oggi come detto alle 14 ci sarà l'incontro di tutti i sindaci l'auditorio di via Sabadini a Udine per condividere le misure più idonee da adottare in vista appunto dell'emergenza coronavirus, le sue aspettative anche da questo incontro e poi la saluto Sindaco Beh le aspettative sono quelle di diciamo così far sì che la regione come senz'altro sarà e così si dimostrerà diciamo così vicina anche alla problematicità che devono affrontare i sindaci di fronte all'eventualità di insorgenza di casi di questo tipo ecco questo i sindaci devono collaborare con la regione la regione con le autorità sanitarie locali diciamo così e quelle regionali ritengo che il principio di leale collaborazione tra tutte le istituzioni pubbliche non possa che essere rafforzato nei casi di criticità così rilevante come questo Grazie mille Sindaco buona giornata e buon lavoro noi tra poco ritorneremo in direzione alle 7 Grazie mille Grazie mille Grazie mille